Ilaria Picchioni di Giallo Cobalto ci parlerà di standardizzazione di servizi pubblici digitali, ci parlerà del progetto sviluppato con Pago.pa per migliorare la qualità e il valore percepito dai cittadini attraverso l'appio. Tutto questo mappando e studiando l'interazione tra gli enti pubblici e i cittadini e Ilaria ci parlerà di come questi che diventano vantaggi per gli enti possono diventare poi vantaggi anche per i cittadini. Ma poi di questo ne riparleremo anche nei prossimi talk, quindi tocca a Ilaria, eccola qua. Prego Ilaria. Allora appunto parleremo di standardizzazione dei servizi pubblici digitali, un po' autoscope rispetto all'ambito plone, però appunto sempre all'interno della digitalizzazione e dell'APA. Mi presento un attimo, sono Ilaria Picchioni, lavoro come service UX designer presso Giallo Cobalto e oggi appunto volevo condividere con voi un'esperienza che abbiamo svolto l'anno scorso in collaborazione con Pago.pia per la progettazione dei modelli dei servizi dei comuni da integrare nell'applicazione Io. Per comprendere meglio il progetto lo inseriamo in un contesto che è molto più ampio, quello della digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione, cominciando con il Piano Nazionale Innovazione 2025, come ben saprete nella strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Italia 2025. Una delle sfide principali promosse è quella di prevedere delle iniziative virtuose che potessero permettere dei servizi digitali che facilitassero l'accesso agli servizi online da parte del cittadino. Quindi da qui si inserisce l'applicazione Io, nasce nel 2020 e si configura come punto di contatto che permette al cittadino di interagire con varie pubbliche amministrazioni che esse siano locali o nazionali. L'applicazione Io inoltre è molto utile anche per le pubbliche amministrazioni stesse in quanto agevola la gestione dei servizi digitali, permettendo di non dover configurare funzionalità ex novo, di gestire in maniera più rapida e con soluzioni anche più economiche l'implementazione dei servizi digitali, garantendo anche una maggiore sicurezza informatica e agevolando ovviamente l'inserimento sempre maggiore di nuovi servizi digitali. Nell'aprile del 2022 è stata poi pubblicata la misura 143, adozione a Pio, all'interno del contesto di investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale e qui l'obiettivo ovviamente era quello di aumentare il numero di servizi digitali inseriti nell'applicazione. In particolare noi oggi ci occuperemo appunto dei comuni e per i comuni l'obiettivo era quello di disporre di in media circa 50 servizi per ciascun comune nell'applicazione. In una prima fase, in seguito all'introduzione di questa misura, gli enti quindi i comuni ma insomma tutti gli enti pubblici e i partner tecnologici erano responsabili dell'implementazione stessa e dell'integrazione dei servizi all'interno della piattaforma. Questo ovviamente ha fatto sì che la situazione fosse un po' caotica diciamo e quindi anche la qualità dei servizi inseriti in app non era pienamente soddisfacente. Questo andava poi a creare un impatto sia sulla reputazione dell'applicazione che sulla percezione della qualità dei servizi da parte dei cittadini stessi che come già abbiamo ripetuto numerose volte probabilmente ripeteremo è poi il fine ultimo sempre di una pubblica amministrazione, orientarsi al cittadino. Quindi al fine di tutto questo filone si inserisce il progetto che abbiamo messo in campo come una delle misure che ha voluto mettere in campo Pago.pia appunto in seguito a questa situazione di insoddisfazione della qualità dei servizi. Quindi l'obiettivo era quello di agevolare maggiormente l'esperienza utente rispetto alla fruizione di questi servizi nell'applicazione. Il punto di partenza con cui ci siamo trovati ad avere a che fare era un catalogo, un catalogo di 80 voci di servizio sviluppato da Pago.pia voci di servizio rivolte a circa 8.000 comuni italiani. Quindi anche qui già parlavamo di standardizzazione con il titolo del talk, qui cominciamo a capire come per farsi che queste voci di servizio possano essere utilizzate in maniera adeguata e in maniera utile anche da tutti i comuni. L'obiettivo è quello di garantire una forte uniformità e ovviamente anche una possibilità, una flessibilità nell'utilizzo di questi. Questo catalogo ci è stato dato appunto da Pago.pia. Abbiamo uno screenshot qua di come è conformato, quindi con delle voci di argomento, le voci di servizio, quindi i nomi dei servizi che sono stati selezionati per i comuni e una descrizione che poi si ritroverà in applicazione. Gli obiettivi generali per il progetto sono molteplici, in realtà erano anche particolarmente ambiziosi. Qua ho raccolto i due principali, quindi da un lato arrivare a costruire dei modelli dei servizi dei comuni, quindi per ognuno di questi 80 servizi messi a catalogo l'obiettivo finale era raggiungere un modello, entreremo dopo nel vivo di come sono effettuati, insomma come sono configurati questi modelli, che potessero essere standard, quindi appunto applicabili e adattabili ad ogni comune e user center, quindi orientati sempre a una fruibilità agevole da parte del cittadino. Dall'altro lato invece la raccolta feedback, quindi attivare una relazione con gli enti che erogano poi i servizi, i partner tecnologici continua che ci permettesse anche di raccogliere il loro punto di vista per non sottovalutare appunto come questi processi poi si dovessero svolgere internamente, con un processo continuo di raccolta feedback che ci potesse permettere di affinare il processo. Il quadro iniziale con cui ci siamo trovati ad avere a che fare è rappresentato da questa immagine, questo è un'estrazione di tutti i servizi che quando abbiamo cominciato con il progetto erano presenti sull'applicazione io per i comuni, quindi erano più di 25.000 voci di servizio differenti, è stato anche molto complesso andarle ad analizzare, andarle a vedere tutte per poi capire i punti comuni e il quadro era caotico anche perché ovviamente gli enti senza nessun tipo di linea guida avevano inserito in maniera molto differenziata i servizi in app, quindi spesso frammentandoli molto anche non adottando il concetto di servizio che ha Pago.pia, quindi servizio inteso come macroflusso. Prendiamo l'esempio degli asili nido, il servizio è asili nido che comprende tanti vari micro step e tanti messaggi. Spesso i comuni invece inserivano dei servizi relativi a uno specifico step, quindi ad esempio l'iscrizione agli asili nido, il pagamento della retta. Questo ovviamente non agevolava l'esperienza utente perché per un unico servizio considerato da Pago.pia si poi trovavano in applicazione numerosi pezzi frammentati. Altro aspetto abbiamo ritrovato numerosi tecnicismi sia dal punto di vista delle voci di servizio che all'interno della descrizione. Anche qui l'orientamento non è propriamente user center perché il fine ultimo è quello di agevolare il cittadino, quindi se la comprensione non è agevole ovviamente si crea una frizione. Da qui abbiamo cominciato tutto il nostro processo progettuale che è partito con un'analisi benchmark. Abbiamo analizzato una serie di documenti che ci sono stati forniti da Pago.pia e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, quindi avevamo già un set di documentazioni utili per l'analisi e poi abbiamo effettuato una vera e propria analisi benchmark su dei campioni di siti comunali rispetto ai servizi che si trovano per gli enti. Questo l'abbiamo fatto per ciascuna delle 80 voci di servizio che erano presenti nel catalogo che ci è stato sottoposto da Pago.pia. Da qui abbiamo cercato di ricostruire piano piano il flusso e di cominciare a mappare le varie fasi e i punti di contatto anche con il cittadino. Fondamentale in questa fase è stato razionalizzare la ricerca che poteva essere enorme perché ovviamente i siti dei comuni presentano numerosissimi servizi che non era sempre facile anche associare alle voci di servizio che ci erano fornite da Pago.pia. La razionalizzazione l'abbiamo dovuta fare rispetto a quelle che sono le caratteristiche che fanno sì che un servizio possa essere veicolato sull'applicazione.io, quindi anche le caratteristiche delle comunicazioni. Innanzitutto devono essere servizi rivolti esplicitamente ai cittadini o a imprese uninominali, comunque sempre alla singola persona o a un singolo codice fiscale e le comunicazioni che possono essere veicolate possono essere di pagamento, informative, relative anche a documenti, ma mai comunicazioni a valore legale, quindi anche questo ci ha aiutato un po' a razionalizzare la ricerca. In un secondo momento abbiamo per ogni servizio costruito una journey map del servizio, cercando di fare una sintesi rispetto ai benchmark analizzati e cercare di costruire un unico flusso di processo che potesse accomunare le varie caratteristiche individuate in fase di ricerca, andando a mappare le macrofasi, i singoli step sia di azioni svolte dal cittadino che dall'altro lato ovviamente delle azioni svolte dalla pubblica amministrazione. Un obiettivo qui è già stato quello di cominciare a individuare in ciascuna di queste fasi quali comunicazioni poi la pubblica amministrazione può mandare al cittadino direttamente tramite l'applicazione.io. Tutte queste comunicazioni poi sono state riassunte in questi cicli di vita che si trovano anche poi nei modelli che sono stati in parte già pubblicati. Questi cicli di vita riassumono per ogni macrofase che si trovava nel giorno precedente quali sono i messaggi, le comunicazioni che possono essere mandate al cittadino. Per ciascun messaggio poi, quindi andando sempre ad allargare, a stringere il focus, per ciascun messaggio è stato realizzato anche un template apposito che potesse agevolare l'ente poi nell'invio della comunicazione al cittadino e quindi fornire delle linee guida sempre più specifiche, sempre più indirizzate per agevolare questo tipo di comunicazione. Tutti i vari modelli dei servizi, quindi tutti gli 80 modelli poi in parte sono già confluiti, in parte confluiranno nel manuale dei servizi dell'applicazione.io che è già pubblico. In tutto questo macro processo progettuale, per affrontare anche un po' tutte le sfide precedentemente citate che ci si sono poste, abbiamo dovuto adottare come insomma linea guida nostra un processo di semplificazione. Semplificazione sia del linguaggio amministrativo, come dicevamo prima erano presenti molti tecnicismi, sia per quanto riguarda la creazione dei modelli, perché l'obiettivo era quello di creare modelli che potessero essere sintetici, quindi riassuntivi di tutti gli step analizzati nei vari benchmark, ma allo stesso tempo esaustivi, quindi sintetici ma allo stesso tempo completi. Una pubblica amministrazione deve essere orientata ai cittadini e quindi ha la responsabilità di agire e comunicare in maniera semplice, chiara e lineare. E da qui infatti l'obiettivo è quello di semplificare senza impoverire, quindi riuscire a raggiungere una semplificazione anche del linguaggio. Noi durante tutta l'analisi abbiamo cercato di fare molta attenzione alla terminologia adottata dagli enti stessi, quindi durante l'analisi benchmark, cercando di porre sempre l'attenzione anche nei nostri modelli ad adottare questo tipo di linguaggio specifico, facendo sempre però attenzione di porci anche nell'ottica del cittadino, quindi cercando sempre di capire se i termini adottati fossero sì efficaci, sì corretti e coerenti, ma allo stesso tempo anche semplici per il cittadino da essere compreso, insomma, per poter capire come soffrire del servizio. Altro concetto che per noi è stato fondamentale è stato il concetto di modularità. Questo perché, come si vede anche nell'immagine, nella creazione sia delle journey map che dei cicli di vita dei servizi, abbiamo cercato di individuare quali sono le macrofasi che si ritrovano poi in tutti i vari servizi o comunque nella maggior parte di essi. Vediamo la fase di pagamento, la fase di prenotazione di appuntamenti, di gestione di richieste, di domande. Queste sono macrofasi che indipendentemente dal tipo di servizio spesso si ripetono, ovviamente poi con caratteristiche pecuriari a seconda della tipologia di servizio. Per questo abbiamo individuato dei moduli, dei moduli che potessero essere standard, questo per garantire anche coerenza tra un servizio e l'altro e garantire coerenza anche di volta in volta, siccome il processo è stato ovviamente molto lungo essendo esteso a 80 voci di servizio, per mantenere coerenza dall'inizio alla fine rispetto ai modelli progettati e allo standard impostato. Questo approccio modulare garantisce tra l'altro un equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione proprio perché l'obiettivo è quello di standardizzare queste 80 voci per gli 8000 comuni, ma nello stesso tempo ci sono delle peculiarità che vanno rispettate a seconda della dimensione del comune o insomma a seconda dell'erogazione che poi il comune fa del servizio. Per questo motivo appunto anche nel ciclo di vita questi messaggi sono tutti presenti ma possono essere accesi o spenti a seconda della necessità di veicolare quel tipo di pagamento o meno o insomma altre tipologie di azioni. Questa modularità aiuta anche poi nella gestione e nella manutenzione di questo tipo di lavoro proprio perché i singoli moduli possono essere aggiornati in maniera di staccata rispetto all'intero servizio, all'intero processo. Quindi anche questo garantisce una gestione più agevole di tutto quanto. Tutto il processo è stato, si parlava anche prima di validazione che è molto importante ovviamente nel processo progettuale e le reiterazioni. Quindi abbiamo svolto continui affinamenti, continui iterazioni, tornando sempre all'inizio, tenendo sempre aggiornato anche lo standard impostato rispetto ai primi servizi magari analizzati mesi prima. E nel processo di validazione, come dicevamo anche negli obiettivi iniziali, abbiamo voluto cercare di tenere un contatto frequente, coglienti, anche per raccogliere effettivamente dai comuni stessi, insomma da chi nei comuni ci lavora, dei feedback utili per la validazione dei modelli progettati e anche per la validazione del processo generale adottato. Quindi è stato molto utile per l'affinamento dei modelli, ci ha garantito insomma di raggiungere sia uno standard che appunto una definizione anche della terminologia e della strutturazione dei flussi adeguata e poi ci sono stati forniti anche dei feedback rispetto al processo generale, quindi anche all'impatto e all'utilità che questo tipo di lavoro può effettivamente avere sugli enti. In particolare è stato sottolineato come questo tipo di analisi più legata ai processi spesso manca e invece probabilmente molto utile, quindi anche indipendentemente dalla standardizzazione si parlava di reingegnerizzazione dei processi adesso sicuramente è qualcosa che è molto utile e poi come questo progetto sia stato utile per capire come integrare i servizi nell'appio. Infatti delle linee guida spesso vengono viste come dei vincoli ma tante volte come si diceva anche prima la linea guida in realtà aiuta a percorrere tutti una strada comune e anche a orientarsi, avere delle linee guida può aiutare a capire come arrivare al cittadino in maniera più efficace. Infine l'obiettivo è sempre quello dell'uniformità, quindi anche questo è stato sottolineato, alcuni enti avevano tentato anche internamente di cercare di raggiungere questo obiettivo anche solo a livello di uniformità dei propri servizi interni, sicuramente fatto su una scala più ampia quindi potendo abbracciare tutti gli 8.000 comuni o comunque dando degli standard che possano essere condivisi questo obiettivo dell'uniformità è più facilmente perseguibile. Arrivo già alle conclusioni, scusate probabilmente parlo anche troppo veloce, comunque arrivando alle conclusioni ne abbiamo tratte tante perché il processo appunto è stato molto lungo, abbiamo sintetizzato qua o sintetizzato qua le quattro principali. In un primo luogo bisogna spostare appunto l'attenzione spesso dalla struttura ai processi, processi che devono anche essere in grado di evolvere, di essere reingegnerizzati per essere duttili, per essere flessibili, questo anche perché si parlava prima di cambiamento, di quanto il cambiamento sia fondamentale. Effettivamente la pubblica amministrazione di oggi non è la stessa di ieri e domani non sarà la stessa di oggi quindi sapere anche evolvere e cambiare è fondamentale. Proprio per questo la pubblica amministrazione ha il potenziale per essere anche catalizzatore di innovazione all'interno della comunità e quindi saper portare anche la trasformazione digitale. Questo progetto non è un esempio ma è soltanto un inizio, ne abbiamo avuti tanti di esempi, ne avremo ancora. E poi questa tipologia di progetto, quindi questa analisi relativa ai flussi dei servizi, la ricerca di trovare dei modelli standard che possano essere condivisi agli enti per poter inserire i propri servizi sull'applicazione io, adesso è stato effettuato per i comuni però ovviamente in un futuro potrebbe essere allargato anche ad altri enti perché la tipologia di processo potrebbe essere insomma di interesse anche per altri e poi sempre avendo come obiettivo finale il cittadino avere continuità anche tra un ente e l'altro sicuramente aiuterebbe a migliorare l'esperienza utente. Ultimo punto, uscendo dal progetto in sé ma pensando più al processo progettuale adottato quindi pensando un po' alle parole chiave che hanno guidato il processo, la semplificazione, la standardizzazione, la modularità è un processo che ovviamente può essere applicato anche a molti altri progetti si parlava prima delle linee guida di Designers Italia comunque un processo progettuale che si basi su queste tematiche che permetta sempre anche una validazione continua, quindi un affinamento continuo può essere applicato anche a molti degli obiettivi che gli enti si sono posti ad esempio nei Piau o insomma in altre sedi. Quindi se non ci sono particolari domande vi ringrazio. Grazie mille, grazie mille Ilaria.